il mezzo idiota le donne lo guardavano con sospetto in certe si lasciasse invadere dalla sua gioiosa alleanza con quella croce che portava così leggera sulle spalle oppure evitarlo come un folle pericoloso silvestro frate silvestro mi chiamo come il gatto dei cartoni animati così diceva ai ragazzi dell'oratorio che venivano a confessarsi e ai quali doveva presentarsi la barba rasata male e mezza bianca occhi grandi il fisico asciutto lo rassomigliavano uno spaventapasseri vestito da padre pio eppure era evidente che la sua fede era esposta al miracolo come un appartamento che prendesse luce da tutte le finestre il parroco lo aveva accettato perché il superiore dei frati cappuccini era un suo amico ma avrebbe fatto volentieri a meno di ospitarlo per qualche mese d'altronde la stanza che gli era stata assegnata era proprio vicino la porta come la posizione di quel cristo delle braccia aperte sì quel cristo pieno di piaghe che si trovava mezzo fuori e mezzo dentro la chiesa come se non fosse chiaro il suo posto anche lui solitario fuggiasco o pronto per essere cacciato dalla casa del padre che non ha dove posare il capo gli zii se esiste un motivo per il quale le famiglie sono ancora in piedi è grazie agli zii zie o zii non importa la loro esistenza parallela e anarchica rispetto a quella posata e grave dei genitori li rende degli angeli protettori della libertà è lo zio che concilia i pensieri trasgressivi senza per questo avvallarli o permetterli e la zia che ci ricorda un lontano tempo nel quale anche nei genitori c'era una traccia di ribellione e adesso quando ci mettiamo a tavola insieme fanno finta di riprendere il nipote discolo per non lasciare intendere di essere intimamente d'accordo con lui bravo a 17 anni abbiamo tutti provato ad imitare rambo scappare di casa provocare i ben pensanti e scrivere poesie disperate su un amore adoperato solo per quello scopo lì si guardavamo allo specchio cercando il punto preciso dove verleng avrebbe sparato poi però abbiamo cambiato idea troppo sangue e troppo dramma immaginario il sogno ci era dissolto e c'eravamo svegliati nostra moglie aveva chiamato sul cellulare c'era bisogno dei pannolini per un bambino che ignorava chi fosse e che riempiva il lettino di cacca altro che stagioni all'inferno qui si annunciava qualche anno di vero e profondo terrore il miss sarò cretino ma dovete spiegarmi perché tutti o quasi al tempo della prima repubblica chiamavano miss l'MSI eppure l'incerta pronuncia non richiamava alle mente esotici afruri di bianche legioni straniere non c'era un mistero sensuale e maliardo in quel dubbio che mi inquietava tale rimase e restò finché una voce interiore alla quale parevo di aver posto l'identica domanda rispose con stentoria e ardita energia me ne frego e senza più alcun dissidio o dilemma convenni con lei napoli quando si va a napoli è come se si dovesse rispettare un teorema o una disposizione legislativa che rendono obbligatori alcuni avvenimenti chi ci arriva cioè appena posto il piede sul suolo partenopeo dovrebbe essere avvicinato da almeno un malvivente o da un ricettatore che vuole proporgli un affare apparente ma tutto questo è ormai romanticismo a napoli non ti ingannano più e se ci vai e passi una giornata tranquilla senza che ci scappi il morto ti senti quasi derubato